Penso che alla fine, se vuoi una cosa, non è detto che quel treno passi, ma se la vuoi fino in fondo ce la puoi fare, la vai a prendere. Il senso non è tanto quello che fai per te, che ovviamente deve essere la base attorno al quale tu prendi le decisioni, ma quello che fai per la gente. La tua paura più grande? Legata al lavoro è sicuramente annoiarmi. Una birra con il proprio mentor in un bar nella periferia di Milano e la rinuncia a un contratto a tempo indeterminato. Marco Cattagno si è raccontato nel primo episodio di Cantera Masterclass. Buona visione! Benvenuti! Presento io o inizi tu? No, fai tu, fai tu. No, no, tu sei più bravo. No, no, no. Allora, in teoria questa è una masterclass, ma la premessa è che da quando vi ho incontrati la prima volta ho iniziato a seguirvi e la masterclass è reciproca. perché guardando cosa fate voi, le imitazioni le ho scoperte da poco, però voi quando andate allo stadio raccontate le partite con un taglio, un tono, uno stile, una cifra differenti da quelle a cui sono abituato, ho capito che c'è un altro modo per raccontare il pallone nuovo e secondo me la chiave è che voi prendiate qualcosa dai più anziani e che i più anziani prendano qualcosa dalle nuove leve. Possiamo ora partire. Grazie, grazie. Potremmo utilizzarla come intro per spiegare cos'è il masterclass. L'obiettivo per me è quello, cioè che diventi proprio la sigla del programma. A me piace essere. Vi ha fatto un ottimo assist regia, non so se l'avete colto. Ciao ragazzi, benvenuti sul canale della cantera con un nuovo video e con il nostro nuovo format masterclass. Applausi, applausi, applausi. Abbiamo sempre delle difficoltà a capire quando io mi fermo e dovrebbe essere ci vuole, grazie. Ci vuole la clac, perché grande programma televisivo anche, e poi ci arriverete quando sarà più strutturato. Qualcuno dall'esterno dovrebbe fare un applauso. Se no si mettono in post produzione gli applausi finti, che è un'altra tecnica di sottoutilizziamo. Io ti so, quando faccio delle battute chiedo delle risate finte perché di sotto live non ride mai nessuno e quindi ho sempre bisogno che ci sia qualcuno dopo. Ragazzi, come ho già anticipato Marco, oggi sarà una chiacchierata, una chiacchierata tra te che rappresenti il professionista e noi ragazzi giovani aspiranti, magari professionisti, un po' acerbi. E vorremmo... Il resto sei davanti, proprio la maglia di acerbi, mi sembra, no? Sarebbe un bel plot twist, ma penso proprio di no. Mi sa che è Mauro Icardi numero 9. Vabbè, ma scusa, altra piccola lezione. La televisione è finzione, quindi possiamo dire che sia la maglia di acerbi e tu l'hai detto apposta, no? Assolutamente sì. Adesso puoi dire che sei diventata red dall'imbarazzo perché c'è la maglia dei reds dietro. Poi si possono fare tante cose, tanti giochi di parole. Il bello di questo lavoro è che si può giocare con le parole, no? Però non ci sono altri maglia dei reds? Sì, c'è De Rossi, Reds, ci sono tante cose. C'è chiesa. Sì, c'è chiesa. Potresti dire che ti chiami Maria invece di Isa? Guarda, stiamo sfociando nel cringe più totale. Vabbè, oggi sarà una bella chiacchiera, andremo un po' a capire il tuo percorso, il tuo trascorso, le difficoltà che hai incontrato in questo tragitto e niente, cerchiamo di trarre qualche insegnamento da te, dalla tua vita che magari potrà tornarci utile a noi e a voi che ci seguite dal telefono, da casa. Anche perché? Sì? Voi siete duemila... Novanto, io sono la più vecchia. Vabbè, diciamo che avete una ventina di anni. No, non dirlo. Facciamo che sono la più vecchia. Quando più o meno avevo la vostra età? Vabbè, io ho finito il liceo e avrei ricevuto dai miei genitori il regalo a un motorino, no? Per andare all'università. Ma una vecchia fidanzata della quinta liceo, quando, insomma, stava per finire, prima della maturità, stava per finire l'anno scolastico, un tempo si ricevevano gli avvisi per posto, tipo, vuoi diventare un reporter televisivo? A me piaceva l'idea, ma piaceva soprattutto lei che aveva compilato a nome mio questo foglio e poi l'aveva rispedito. Nel frattempo mi ha lasciato durante l'estate e quando sono tornato, avevo due mesi di tempo, prima che iniziasse l'università, mi chiamano da questa scuola dicendo abbiamo accettato la sua richiesta. Sono andato a partecipare a una sorta di test d'ingresso per diventare uno studente di questa scuola di giornalismo televisivo ed erano esercizi di logica, tipo, completa la sequenza, 2, 4, 6, 8, 10, 12, bravissimo, bravissimo. Mi hanno richiamato, due giorni dopo dicevano, hai risposto esattamente a tutte le domande, solo che hanno partecipato in 7000 alla selezione, ne possiamo prendere soltanto 18, 17 hanno già detto sì. Quindi devi decidere, entro un'ora, il costo è esattamente il prezzo del motorino che mi avrebbero regalato i miei genitori. Quindi il primo snodo, il primo bivio è stato quello in cui dovevo decidere se fare questo corso di giornalismo televisivo oppure ricevere il motorino. E ho scelto di fare questo corso di giornalismo televisivo, al quale andavo in bicicletta, quindi pedalando per tutta la città. E diciamo che il primo passo è stato questo. Il secondo passo, un anno dopo, è stato incontrare in un pub, so che lo conoscete bene, Fabio Caressa. Era un pub della periferia estera di Milano, lui era con la sua futura moglie, stava bevendo birre, per fortuna non era la prima Pintan, ma era già a livello successivo. Per cui quando mi sono seduto al suo tavolo, e ancora non mi spiego come lui mi abbia accolto al suo tavolo, dove era seduto con la sua futura moglie, e ho incominciato a parlargli di quello che volevo fare da grande, cioè il giornalismo televisivo, perché intanto quel corso lì mi era piaciuto, lui a un certo punto, forse perché Pintan aveva bevuto i 5-6, mi ha dato il suo numero di telefono. Cosa che poi mi ha raccontato, visto che abbiamo lavorato insieme per 20 anni, che non aveva mai fatto con nessun altro, ma si vede che c'era qualcosa di magico. Come te lo spieghi? Non me lo sono mai spiegato, ma mi sono spiegato dopo 9 mesi, come mai lui per 9 mesi non mi abbia mai risposto quel telefono, nel senso che chiamavano, rispondono. Io con una faccia di tolla che si ha alla vostra età, e quando io avevo la vostra, lo chiamavo praticamente tutti i giorni, mattino o pomeriggio. Ti ricordi che mi hai lasciato il numero, ma lui non mi rispondeva mai. Ogni tanto rispondeva qualcun altro, dicendomi, no Fabio non c'è, Fabio è in sala di montaggio, Fabio sta facendo una telecronaca, richiamalo magari non domani, ma al mese prossimo. Io invece lo chiamavo domani. Quando ho iniziato a lavorare a Telepiù, mi hanno dato la scrivania proprio davanti a Fabio, e dopo 5 minuti suona il suo telefono, lui lo prende, me lo dà e dì che sono in sala di montaggio. Quindi ho capito cosa aveva fatto con me nei 9 mesi precedenti. Vi ho rubato le domande, però è per dire che ogni volta che vedo dei 19, 20, 21 anni, penso un po' alle circostanze che sono anche casuali, attraverso le quali poi si trovano delle opportunità di lavoro, penso alla perseveranza che uno deve avere a 21, 22 anni, e penso che alla fine, se vuoi una cosa, non è detto che quel treno passi, ma se la vuoi fino in fondo ce la puoi fare, la vai a prendere. Quindi devi dire grazie alla tua ex fidanzata, giusto? Io devo dire, sì, perché ci sono tante cose delle quali ti chiedi ma che senso ha, cioè che senso ha avuto quella storia, quella atroce sofferenza che ho vissuto, e poi però il senso lo trovi anche in queste piccole cose qui. Io l'ho ringraziata tipo 15 anni dopo, per 15 anni ci avevamo sentito, l'ho ringraziata, credo che lei non abbia capito e colto il senso del ringraziamento, però lo penso davvero, perché chissà, magari senza di lei tutto non sarebbe partito. Ma tu hai sempre voluto fare questo di lavoro, fin da piccola? No, io volevo fare l'attore di teatro, io facevo teatro, bravissima, volevo fare l'attore di teatro e che ha a che fare ovviamente con l'idea di stare sul palcoscenico, di mettersi in gioco, di rivolgersi alle persone, ma l'aspetto che mi piace di più è quello legato alla creatività, cioè da bambino disegnavo, dipingevo, scrivevo canzoni, raccontavo storie mettendole su con la macchina per scrivere, scrivendole, e alla fine è quest'idea di lavorare sempre a qualcosa di nuovo, di cui sento una grande necessità, un bisogno, lo vedo anche con i contenuti che fate voi, no? Cioè non riuscirei a lavorare per una cosa che devo fare tra sei mesi, e in quei sei mesi intanto non scrivo un libro, provo a raccontare una storia, realizzo un servizio televisivo, perché la soddisfazione principale che trovo è proprio nel partire da zero e arrivare a un risultato che mi gratifichi e che mi realizzi, quindi proprio l'idea di giocare con le parole, con le immagini, poi sono cose che si scoprono lavorando, no? Cioè montare un servizio, partire da un'idea e vedere come lo realizzate dopo, quando lo vedi compiuto, fatto e finito, non sempre poi corrisponde all'idea che ti eri fatta in principio, però vederlo lì è per me una soddisfazione sempre enorme. Sappiamo che oltre a un giornalista sei anche scrittore, mi dicono mago, un viaggiatore, eccetera. A questo punto vorrei dire pure idraulico, postino, ma non lo so. Comunque, quanto il coltivare diverse passioni oltre al calcio ti aiuta a raccontare il calcio stesso e a fare al meglio il tuo lavoro, perché come dice l'allenatore della mia squadra, Murigno, chi sa solo di calcio non sa nulla di calcio. Secondo me fa parte un po' della risposta del discorso che facevo prima, nel senso credo di essere molto curioso e poi alla fine la curiosità che muove il mondo e che alimenta la nostra passione, che ci spinge nel nostro lavoro e questo mi ha reso il frontman di una band musicale quando ero al liceo. Abbiamo fatto da spalla a Daniele Silvestri, abbiamo dato il nostro CDE, che ho apprezzato anche nelle nostre canzoni. problemi condominiali, dirottamento assassino, baby morta, erano testi... Abbiamo inciso un CDE, ma l'idea di uscire, di incidere un CDE il giorno dopo facevo le feste di paese con due maghi. Io ero mago Keddu, c'era mago Jovis e mago Lexotan e andavamo a fare feste di paese. Lexotan si chiamava, perché era soporifero, sì. Però l'idea semplicemente era andare in una parrocchia, un venerdì sera, invece che passare la solita serata tra amici, a rivolgerci ai bambini e salire sul palcoscenico e fare uno spettacolo. Ed erano quasi sempre un disastro, perché 16, 17, 18 anni, cioè non è neanche semplice rivolgersi e partecipare alle feste di paese. Scrivere mi ha aiutato tantissimo a un certo punto, diciamo, della carriera, perché sentivo un grande bisogno di avere nuovi stimoli e questa necessità è anche legata alla scelta che ho fatto un anno e mezzo fa. Io ero dipendente, assunto a tempo indeterminato, mi sono licenziato perché vorrei adesso diventare un libero professionista, non mi vedo più lavoratore dipendente, impegnato, sei giorni su sette, a fare la stessa cosa, ma mi piace l'idea di un giorno scrivere, l'altro venire qua e il terzo andare a sciare, perché ovviamente poi nel completarsi come persone c'è anche il dedicarsi al tempo libero e alle cose che più interessano. E quindi ho iniziato a scrivere libri per bambini e mi piace tantissimo ad esempio andare nelle scuole, rivolgersi ai bambini, cioè dare... C'è un grande maestro che non è una cosa forse intima, personale, ma secondo me vale la pena dirla, Federico Buffa, immagino conosciate tutti quanti, è stato uno dei primi che ho avvisato quando appunto ho preso questa decisione, e l'ho chiamato, noi abbiamo passato 40 giorni insieme in Brasile, bellissimi, e tutti i giorni, lui e anche Leiladani, che immagino abbiate frequentato, intravisto, che sicuramente conoscete, e spesso conducevamo in questo studio a Copacabana, a vista a oceano, poi tornavamo verso il nostro albergo di notte, camminando per tre quarti d'ora, un'ora, e ci siamo aperti come mai avevamo fatto, perché è più difficile farlo all'interno di una redazione, in un contesto del genere è più semplice, e quindi eravamo entrati un po' in intimità, in complicità con Federico, è stato uno dei primi che ho chiamato per dire guarda, decido di licenziarmi, vado a fare un'altra cosa, e lui mi ha detto, però scusami, tu hai fatto per vent'anni, tutti gli anni, a Telepiù, Escai, Juventus, Bologna, Bologna, Juventus, per dire una partita a caso, però aveva scelto quella, adesso vai in un'altra divisione, e fai sempre Juventus, Bologna, Bologna, Juventus, qual è il senso della tua scelta pensando a cosa fai a te e a cosa fai alla gente, cioè a quello che lascerai per le persone, perché lui mi dice, ma io vado a teatro a raccontare delle storie, e mi sento realizzato nel raccontare delle storie, cioè mi devo chiedere non soltanto quanto sia gratificante per me, quanto mi diverta quello che faccio, ma anche il senso di quello che faccio, cioè tu ti senti compiuto e realizzato nel raccontare Juventus, Bologna, e io gli ho risposto, sì, se racconti Juventus, Bologna, cercando di farlo con educazione, con rispetto, o trasferendo i valori nei quali credi alle persone che ti ascoltano, perché se anche tu ti rivolgessi soltanto una persona, e quella persona, boom, migliorasse, dicono una cosa magari un po' troppo alta, la propria cultura sportiva, perché tu gli arrivi in un determinato modo, gli spieghi determinate cose, e cerchi di approcciare, di avvicinare quella persona al calcio in un'uniterminata maniera, e allora hai fatto centro, quindi gli dice, il senso non è tanto quello che fai per te, che ovviamente deve essere la base attorno al quale tu prendi le decisioni, ma quello che fai per la gente, come fai Juventus, Bologna, pensi che fare Juventus, Bologna in un determinato modo possa lasciare il segno, possa servire alle persone che ti ascoltano, allora fai quella roba lì, se invece lo devi fare, che tutti gli anni fai Juventus, Bologna, e dici questo è il risultato, vediamo i gol, e allora il suo consiglio è stato prendi un'altra strada, fai altre cose, e io ho scelto di fare Juventus, Bologna, ma contemporaneamente di scrivere libri per i bambini, di andare nelle scuole, di allenare una squadretta di calcio di bambini nel mio quartiere, cioè di diversificare il lavoro, perché la diversificazione del lavoro, secondo me è quello che ti permette di rimanere sempre acceso, cioè di sentire sempre quelle vibrazioni che a 20 anni si sentono a 40 un po' meno. La tua paura più grande è arrivata ovviamente in ambito lavorativo? Legata al lavoro è sicuramente annoiarmi, e annoiarmi è questa svolta professionale della mia vita, che vuol dire anche conoscere nuove persone, e conoscere nuove persone è non dare per scontato che le persone ti vedano in un determinato modo, ma cercare di convincerle che tu sai fare determinate cose, ti fa ripartire da zero, ti fa studiare banalmente di più, perché non è soltanto la noia, ma se tu cali il livello di attenzione, concentrazione e passione, inevitabilmente ti prepari anche meno, perché sai che il tuo caporedattore, direttore, responsabile, dà per scontato che tu faccia certe cose, ma allora le fai in automatico, invece di buttarsi in un altro contesto, semplicemente vedere un altro ufficio, altre persone, avere un altro referente, ti fa ricominciare, e alza il tuo livello anche di attenzione e concentrazione, oltre che divertimento. Ma l'esigenza di rinnovarti ogni volta, la vivi come una paura o è uno stimolo ulteriore? Sono entrambe le cose, perché diciamo che tu puoi fare la domenica sera uno studio post partita eccezionale, in cui fai, io sono molto critico, cioè la notte tra la domenica e il lunedì torno a casa, è per me un disastro, perché penso, ah no, devo usare quella parola invece di quell'altra, devo fare quella domanda invece di quella che ho posto, però diciamo che ci sono anche delle occasioni in cui invece sei contento, perché il programma tutto sommato è andata bene, però è iniziato, è finito, e dal minuto dopo inizia il programma successivo, e diciamo che il rinnovamento, lo stato d'animo che ti accompagna per tutta la stagione, fa sì che tu fai una cosa bene, ma due secondi dopo riparti con la stessa identica cosa, e se la fai male, sei distrutto, cioè per dire che è un lavoro che pianifichi per un anno, tu lavori per un documentario che inizia adesso, lo registri a giugno, ti dedichi per 11 mesi a quel prodotto lì, e poi vedi come va, qui invece lo vedrete anche voi, potete fare 100 video, ne fate 99 fighissimi, il centesimo viene una mezza sola, magari ti scrivono ma che video hai fatto, e quella necessità di tenere sempre alta la sticella, senza mai calare di un pelo, forse è la parte che è un po' più complicata nella gestione della quotidianità del lavoro. Ultima, poi giuro che vi lascio il microfono, ti riguardi o ripensi solo? Non riesco, non mi piace la mia voce, non mi piace il mio to, e dovrei farlo perché è molto, cioè soprattutto i telecronisti lo fanno, di riascoltarsi per migliorarsi, è una cosa che, adesso riguardo me, mio papà mi ha regalato un paio di anni fa, ha convertito tutti i VHS, quando ero, avendo non c'era la tecnologia di adesso, registravano i miei programmi, io conducevo un programma di bambini per Disney Channel, quando avevo la vostra età, e loro mi registravano, adesso sono tornato a guardare quelle puntate lì, anche perché venivano ospiti del mio programma, dei personaggi che adesso invece con i quali lavoro, cioè Ambrosini, Adane, tutta gente che quando ero bambino, addirittura ero in studio con dei bambini di 8-9 anni, una di queste bambine ha poi sposato un mio collega di Sky, ma io non c'è, per dire che è di tempo nel passato, e quelle cose lì riesco a riguardarle con grande imbarazzo, ma adesso anche quando vedo gli estratti, tipo sui social di Dazon, di una discussione che abbiamo avuto in studio, faccio una fatica tremenda a guardare. Quindi il video su YouTube avrà una visualizzazione in meno? Sì, 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 no ma esteticamente ovviamente mi piace molto, quindi per tenere alto il livello di visualizzazione, e tolgo il volume, però è una cosa che accomuna anche in realtà, almeno per quanto mi riguarda, se vado a vedere i video che facevo due anni fa, tre quarti non li rifarei mai. Io non credo a chi ha dei rimpianti su delle cose che ha fatto in passato e dice non dovevo fare, cioè se l'hai fatta in quel momento, è perché ti sentivi di farle, perché aveva un senso farle, e quelli che hanno schede in armada, di dire ah perché mi sono, cioè che si fanno troppe paranoie su delle cose vecchie che hanno fatto, fanno tutte parte del processo di crescita. No, infatti intendevano rifare il video in sé, ma li rifarei col modo che magari adesso... Eh certo, vabbè, vabbè, però non avresti questo modo qui se non avessi fatto quella ciofecca lì due anni fa. Prima hai parlato che dovevi scegliere o la moto oppure il corso, hai scelto il corso e quindi... Scusate, a te non va bene sta cosa, tu sei il motociclista, eh? Potevo diventare il nuovo Valentino Rossi, eh? No, no, va benissimo, anche perché hai detto che poi ti spostavi in bicicletta. Io visto che sul tuo profilo Instagram molte volte dici, cioè organizzi spostamenti in bicicletta e tante altre cose. Quella scelta lì, secondo te ha influenzato organizzazioni che fai oppure non sarebbe cambiato niente? No, no, sono due cose slegate, che sono da padre di tre bambini molto attento a tanti temi legati anche al nostro e al vostro futuro, tra questi quelli ambientali e quindi faccio parte di un'associazione che cerca di favorire l'uso della bicicletta nel quartiere, quindi un paio di volte al mese andiamo tutti quanti con un carrozzone di bicicletta a scuole fermando le macchine e cercando di chiedere al municipio di rendere la zona scolastica zona pedonale, però no, sono due cose slegate. Anch'io ho una domanda, però volevo un attimo uscire da questa cosa, bicicletta. Nel tuo processo di crescita, io ho visto tantissimi video di... anche litigate, no? Dove tu conducevi. Qual è stata la prima o comunque quando hai imparato anche a gestire momenti difficili? Perché tra Balotelli, mi ricordo, con Marocchi, anche Allegri, mi sa che eri tu, in studio con Adan. Quando è che hai detto ok, ora mi sento tranquillo anche se entro in puntata e succede questo? Fa niente. Non si impara mai. No, perché poi legando le due domande, anche quella di Lisa ti riguardi, quelle sono delle scene virali, forse le scene più faccio fatica, ho fatto fatica a riguardare. Quelle avrei dovuto riguardarle, infatti mi sono fatto forza, l'ho fatto, perché lì impari cosa dovresti fare, come dovresti intervenire. ma se ti ridicessi, torno a me, invece, a quello che dicevi tu, quali sono le cose che non farei, modificherei di quello che ho fatto in passato, la gestione di quei momenti lì, per me è stata, è stata, cioè, no, pessima magari no, ma è stata, è stata sbagliata. Cioè, lì torni a casa e dici, ma io dovevo dire quella roba lì, io potevo interrompere in quel modo lì, poi tra l'altro vai da altri colleghi e dici, ma secondo te, se io avessi detto d'Allegri, ma se io fossi intervenuto con Ballotelli e non trovi mai dieci colleghi che ti dicono se avresti dovuto fare così. Per cui uno ti dice, no, io avrei lasciato correre, altri ti dicono, no, devi interrompere. Per me la base è, allora, secondo me ogni conduttore porta, porta in onda, ovviamente il suo stile, e il suo stile è l'educazione, è il tono, alla fine ogni programma è anche specchio dello stile, della cifra di ogni conduttore, no? E io credo di essere molto, molto pacato. Ma tu hai anche, scusa, anche tanta ironia, che è un plus. Sì, sì, con Allegri ad esempio quando mi ha detto, alcuni me l'hanno chiesto, perché lui mi dice, hai mai giocato basket? E io gli dico, sì, quando ero bambino, e lui rilancia, si vede che ti hanno fatto smettere presto, perché non eri buono. E io lì scoppio ridere, e tanti mi hanno detto, ah, perché non ti sei arrabbiato lì, ti ha offeso? Ha spesso cosa, cioè non prendiamoci troppo sul serio. Quindi l'ironia ti viene in aiuto in quei casi lì. In alcuni momenti, la domanda che mi faccio, perché lì devi prendere una decisione in uno o due secondi, è, tieni botta, rilanci, cioè questi sono nervosi, arrabbiati, sotto stress, arrivano a fine partita, può succedere che usino dei toni un po' troppo, Allegri l'ha fatto anche recentemente, dopo l'Europa League, con Sky, cosa fai? Rilanci per poi cominciare a urlare. Se c'è una cosa che detesto io, è la trasmissione in cui tutti urlano, le voci si sovrappongono, non si capisce nulla, perché trovo che sia semplicemente poco educativo. Se uno ti ascolta, se tu dà l'esempio che le conversazioni, le discussioni si esauriscono e si concludono, urlando su uno sopra l'altro, sbagli e passi un messaggio poco corretto. Però cosa fai? Tieni botta, lo lasci sfuriare, fai in modo che ci sia la dialettica. È una cosa che non puoi pianificare, che vedi di volta in volta, in base alla tua sensibilità, ma che sono certo al 100% che non mi lascerà mai soddisfatto una volta che il litigio si concluderà. Perché un modo per gestire questi momenti non esiste. Ma hai un modello, un tuo collega con il quale hai detto di questa cosa che fa lui mi piace tantissimo, le rubo, oppure hai detto no, faccio la mia, sono così, sono Marco. Allora, la persona alla quale sono più riconoscente di questo lavoro è Fabio Caressa, ma non soltanto perché dopo nove mesi ha risposto al mio telefono, ma perché nel corso di vent'anni di carriera mi ha sempre dato i consigli giusti. Ne ho avuti tanti poi, perché la fortuna anche di iniziare a lavorare, come ho fatto io, a Teli Pio, alla fine degli anni 90, quando c'erano Marianella, Porrà, Taveri, Bonan, Caressa, cioè dei mostri sacri del giornalismo che già iniziavano ad utilizzare un linguaggio diverso, ha fatto tutta la differenza del mondo. Io mi ricordo il primo servizio che ho fatto scritto, il primo testo, era per un programma di Bonan, della domenica sera, e dovevo fare il punto sul campionato. E ho scritto in quel pezzo, Lecce-Corsaro a Milano, tra l'altro sbagliando, Lecce-Corsaro dovevi che vince a Milano, invece era finita 2 a 2, Milano al Lecce, però al di là dell'espressione Corsaro, e poi avevo scritto, ho parlato del Milano, poi dicevo, sull'altro lato del Naviglio, invece è l'Inter. E' arrivato Marco Foroni, che in realtà non era un mostro sacro, cioè nel senso che, di adenzione, era 5-6 anni più di me, ma è sempre stato molto avanti, che mi ha detto, ma tu parli con i tuoi amici, e se passi da Milano all'Inter, dici invece parliamo davanti alla birra dell'altra sponda del Naviglio. Cioè parla, non usare queste frasi che magari ti sono entrate in testa perché le hai sentite nei vecchi programmi di una volta, no? I partenopei, gli alabardati, attaccano dalla sinistra alla destra, le vostre teleschiepi, sono tutte frasi che appartengono al linguaggio vecchio. Ma se cresci con le trigonaca di Caressa, di Marianella, con i programmi di Porra e di Bonan, è ovvio che ascolti quelli e cresci in quella maniera lì. E quindi loro sono sicuramente i miei esempi in più modelli. Ma io ti racconto l'esempio di Caressa, il primo giorno noi facciamo diretta gol, nel 2000 la prima volta, c'era un caporedattore di Telepiu che dice, ma scuola, noi abbiamo le immagini di tutte le partite, adesso, dai più a scontato, che ci siano quei programmi. Abbiamo le immagini di tutte le partite, perché non facciamo tutto il calcio minuto per minuto con le immagini, era già iniziato il campionato e passiamo da una partita all'altra. A proposito di casi, io ero in una sala di montaggio a montare un pezzo, sempre per il programma di Bonan, arriva Alessandra Ferrara, caporedatrice di Telepiu, in sala di montaggio e mi dice, c'è un'emergenza, c'è stata un'alluvione, un'abbondante nevicata, mi ricordo cosa fosse, e quindi Nicola Roggero non riesce a venire da Torino a Milano per fare la telecronaca di Brescia-Parma diretta gol. Te la senti? Sì, sì, e allora vai perché tra sei minuti sei in onda. Io non avevo mai fatto telecronaca in vita mia, ovviamente non avevo mai fatto diretta gol, ero con Caressa, Marianella, Foroni, nella prima diretta gol della storia, quindi c'era un'aspettativa, un'attesa molto alta. E finita 0-0, tra l'altro, almeno un gol potrebbe aiutare i gol, invece no, un disastro di partita senza occasioni. questo per dire che mi metto le cuffie, Caressa si alza e dice dobbiamo fare questo, no? E dobbiamo fare questo di Caressa era la consapevolezza di uno che non aveva mai visto un programma che non esisteva, che non aveva mai lavorato un programma che non esisteva, ma che sapeva già esattamente come dovesse essere. Sembra una cavolata, ma ci sono delle cose, tipo uno dei primi interventi io ho detto nel tempo non collegato, perché è una cosa che noi ascoltavamo in radio, tutto il calcio per un minuto, nel tempo non collegato c'è stato un palo del Brescia. Lui, in intervallo, mi dice se tu dici a uno che sta guardando le immagini a casa nel tempo non collegato c'è stato un palo del Brescia e non gli fai vedere il palo, questo spacca il televisore, che è una cosa che ho detto adesso è ovvia, ma allora tutti dicevamo ah sta attaccando l'Avellino ha avuto tre palle gol, o me le fai vedere, e infatti poi abbiamo fatto in modo che regia ci fosse le WS che il tecnico prende, le vecchie immagini che te le ripropone, ma a certe cose puoi arrivare dopo che lei ha la dodicesima puntata della domenica di diretta gol e lui che è la sua straordinaria secondo me abilità l'aveva già letta, vista prima che iniziasse il programma, perché è sempre stato avanti anni luce. Vado io perché mi interessava molto il concetto di comunicazione quando parlavamo magari delle interviste con gli allenatori post partita, alla fine tu Marco sei il conduttore quindi conduci un intero programma che non sempre magari può andare come vorresti perché c'è l'allenatore che ha subito un torto e quindi viene un po' più con l'animo caldo rispetto a un altro, ma oltre a questo ti devi rapportare con milioni di persone che non vedi in quel momento ma che ti stanno seguendo da casa di un sacco di tifoserie diverse quindi magari non sai mai con che parola definire qualcosa perché ci sta che l'italiano possa essere anche permaloso però per esempio anche quando succede un torto tra virgolette arbitrale devi stare attento magari a non far trasparire che sei contro una determinata squadra queste cose qua quindi come lo vedi il rapporto di comunicazione diciamo da studio a telespettatori come ti senti? Guarda contro una determinata squadra ovviamente non lo sarò mai io credo che se uno ha la passione del calcio naturalmente da bambino tifava per una squadra è la base perché se non sei se non sei stato un bambino tifoso poi difficilmente arrivi a svolgere questo lavoro ma io ti assicuro che poi una volta che si accendono le telecamere tu sei interessato soltanto a fare bene il tuo lavoro una cosa che secondo me noi dobbiamo evitare di fare è prestare troppa attenzione a quello che poi ti scrive a me capita dopo ogni studio soprattutto quando c'è uno degli episodi in cui parli tu c'è un calcio di rigore contestato e ti scrivono sporco gioventino sporco interista sporco milanista sporco napoletano sporco laziale ma se lo fanno in entrambe le direzioni vuol dire che hai fatto bene il tuo lavoro secondo me la chiave è essere giusti cioè essere giusti essere sempre corretti non farsi mai prendere dal pregiudizio non portare avanti chissà quali crociate e agire con educazione e studiare soprattutto tipo una cosa che mi ha insegnato prima dicevi dei punti di riferimento i punti di riferimento non sono soltanto i colleghi sono anche i professionisti con i quali ho lavorato io adesso lavoro tanto con Ambrosini ho lavorato tantissimo con Lele Adani con Costacurta con Luca Vialli e sono con Paolo Condò Matteo Marani però ad esempio Lele Adani è uno che ha alzato il livello di preparazione di tutti quelli che facevano il suo lavoro così come nel calcio ci sono gli allenatori che cambiano lo sport anche nel fare comunicazione ci sono gli opinionisti che facendo opinione cambiano il linguaggio televisivo e Lele è stato uno di questi è una cosa che lui ha alzato tantissimo in tutti noi è il livello di preparazione e di studio perché una volta io mi ricordo un vecchio telefonista che ormai non c'è più di tanti anni fa mi raccontò che quando lui doveva fare delle partite della vecchia Coppa UEFA e il Milan giocava contro il Gothenburg lui si imparava il nome di un difensore il Gothenburg di un centrocampista di un attaccante e ogni volta che la palla ce l'avevano gli avversari diceva se era centrocampo il nome del centrocampista l'attaccante l'attaccante ma nessuno di noi sapeva cosa fosse il Gothenburg nessuno di noi aveva mai visto un video adesso quando tu vai a raccontare una partita ma voi siete ma voi siete più preparati di molte no ma di tante persone che fanno che fanno questo lavoro e questo deve essere un stimolo è una consapevolezza che tutti quelli che fanno questo lavoro devono avere cioè che la concentrazione la preparazione la richiesta di chi ascolta da casa si è alzata enormemente e quindi non possiamo permetterci di ignorare niente e quindi secondo me la comunicazione è cambiata anche in questo cioè nella nella capacità di comprensione critica di chi ascolta che devi inevitabilmente alzare anche il livello di preparazione di studio di chi parla hai detto che Caressa è stata una sorta di pioniere nella realizzazione nella gestione di una puntata che non esisteva ancora di un format che non esisteva ancora Adani ha innalzato il livello di tanti colleghi tu ti senti o vorresti in futuro essere pioniere di qualcosa di qualche aspetto a me piacerebbe a me piacerebbe mettere la mia esperienza un giorno a me sta piacendo tanto invecchiare no cioè perché io sono sempre stato marchino per tutti sono sempre stato più piccolino sono arrivato a Telepiù che avevo 21 anni ero marchino ero marchino quello dei servizi divertenti quello di facciamogli fare il servizio di colore avevo sempre questa faccia da bambino mezzo timido andavo in onda mi sentivo poco credibile adesso che ho qualche ruga in più un po' di capelli bianchi mi sento un po' più saggio e scopro che questa età mi sta piacendo tanto sono contento di attraversarla non mi vedo a 55 60 65 anni a essere lì a sgomitare lottare per essere ancora davanti alla telecamera per condurre uno studio di Europa League mi piacerebbe invece magari non essere pioniere non inventarmi nulla di clamoroso ma lavorare anche dietro le telecamere con un gruppo di ragazzi e provare ad aiutarli guidarli questo sì cioè se dovessi dirti adesso come mi piacerebbe vedere il mio futuro c'è quell'aspetto lì perché noi ogni tanto pensiamo che essere fare il giornalista tipo questo è interessante secondo me sport televisivo sportivo significa semplicemente andare davanti davanti alla telecamera e ad esempio io ho curato l'intervista di Ambrosini con Ibraimovic è andato in onda un paio di anni fa a Sky ho lavorato adesso come autore stavamo ben insieme con un documentario che abbiamo fatto sul Milan nei primi anni del 2000 sto lavorando ad altri progetti in cui il talent diciamo l'ex calciatore diventa protagonista e fa il giornalista davanti alle telecamere noi avevamo mi ricordo ai tempi a Sky e agli internazionali d'Italia Pippo Volandri ex tennista che finita la partita aspettava davanti a un monitor sul quale veniva mostrata una lavagna tattica il tennista che era appena sceso in campo e gli faceva le domande cioè c'era c'era Federer che finiva la partita e Volandri che aveva giocato contro Federer in passato diceva ma qui sei andato col top dovevi andare col back prima cosa che mi viene in mente e per molti questi era 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 sbagliato perché non potevi togliere al giornalista la possibilità di fare la domanda perché il giornalista deve fare la domanda invece no il giornalista deve fare secondo me la cosa ideale che più ti valorizza il programma per il quale stai ti stai impegnando e sicuramente sentire Volandri che fa l'intervista a Federer è per me più interessante più figo mi farebbe alzare il volume di più che se fossi io a intervistare Federer ma chiaramente sono io che poi posso aiutare Volandri a fare la domanda giusta quindi il lavoro del giornalista non è soltanto quello di fare l'inviato a bordo campo di raccontare la partita di condurre il programma o di mettersi davanti alla telecamera ma è anche un lavoro più d'autore d'autore televisivo e quindi pensare a come a come valorizzare certi prodotti certi programmi anche mettendosi dietro la telecamera non per forza essendone protagonista è un aspetto che mi piace sul quale vorrei lavorare a proposito di altri sport andiamo con il paddle perché ormai ha inglobato diciamo chiunque questo nuovo sport è stata un po' la rivelazione degli ultimi anni e ti faccio una domanda un po' particolare qual è il tuo collega che non vorresti mai incontrare su un campo da paddle come compagno Massimo Oddo è un è un perché adesso per fortuna è andato ad allenare la spalla e noi non giochiamo più a padere insieme scatto no pretende troppo sono troppo forte no sono troppo e come compagno pensavo che era un po' no no io ho bisogno di giocare con compagni io sono molto fragile emotivamente bisogno di giocare con compagni che mi esaltino ogni mio gesto quando faccio punto dicendo ah senti forte il mondo e lì mi gaso perché se sbaglio il primo e il mio compagno dice no e poi li sbaglio tutti per un'ora e mezza non ha zecco uno potresti giocare con Barella sì bravo bravo Barella e Prozzo è così gli ironi e quindi il peggiore perché è l'ultimo con il quale ho giocato stilaci una classifica il migliore il compagno di squadra migliore è Billy Costa Curta perché mi insegna perché mi aiuta e perché mi incoraggia il migliore come motivatore Marco Parolo perché mi gasa e mi fa sentire che bella schifezza forse magari lo sono lo stesso sì bravissimo che bella schifezza fanno un'altra così io la faccio ma con lo spirito giusto e il problema è che giocando con loro magari siamo partiti da un livello diciamo simile poi in un anno loro giocano sei giorni a settimana a diciamo una certa presupposizione dello sport che io non ho e quindi ormai l'abisso l'ivario è incolmabile tu hai giocato a calcio? sì io giocavo a pallacanestro da bambino e infatti ma oltre a pallacanestro? io giocavo a pallacanestro e poi giocavo io giocavo a tennis e poi ho giocato a calcio per un paio d'anni però io praticamente giocavo in porta e sono andato a giocare nello Schuster che è una società milanese centro Schuster anche Beretta ne aveva pensato lo Schuster e ci presentiamo la prima partita siamo 11 contati e io sono il secondo portiere quindi il mister aveva due possibilità o giocavamo in dieci e io stavo in panchina aspettando che si facesse male il portiere titolare o mi metteva in campo come giocatore di movimento e non solo mi ha messo in campo come giocatore di movimento ma mi ha dato anche il numero 10 e quindi per tutto l'anno visto che eravamo in pochi io ho giocato diciamo fantasista centravanti centravanti soprattutto e ho segnato in una trentina di partite 5 gol ma erano partite che finivano tipo 8, 7, 6, 4 ero veramente scherzissimo tra l'altro sopra età giocavo era una cosa abbastanza vergognosa poi poi abbiamo creato la nazionale di calcio di Sky che era una cosa bellissima perché andavamo anche a fare partite di beneficenza quando? questo 15 10 e io avevo furbissimo ho inventato questo stratagemma per giocare visto che alcune di queste le venivano trasmesse anche in diretta a televisiva abbiamo giocato contro nazionale cantanti a Cagliari contro nazionale piloti a Monza io a Cagliari e Monza ho detto facciamo così visto che la trasmettiamo sentiamo la voce del giocatore in campo che racconta la partita e va a intervistare gli altri buonissima idea mi sono fatto mettere l'archetto e durante la partita io ho giocato titolare perché altrimenti sarei stato l'ultimo della panchina forse l'ultimo della tribuna commentavo la gara dopo due minuti tiro del Pampasosa che giocava con noi Peruzzi era il portiere dei piloti la para io mi fiondo sul pallone ma di fianco a me c'era Cois che è un ex giocatore della Fiorentina del Torino mi dà una semispallata io mi butto a terra calcio di rigore prendo il pallone e in quel momento in diretta televisiva io stavo per andare a battere un calcio di rigore che è una cosa cioè se pensi ai sogni della vita arriva il Pampasosa e mi dice eh Marco il rigorista sono io dammi il pallone no ma già hai assegnato 50 gol in Serie A ma ti vuole interessare segnare e niente lì è finita la mia carriera prendita da calciatore non me l'ha fatto tirare il sogno infranto non l'avrei mai segnato per un sì però fammi tirare il rigore avrebbe fatto ridere cosa vuoi dire a distanza di 15 anni a Sosa adesso Pampas non ti ho mai perdonato sei un hermano però ha segnato quindi il campo il campo dice la verità quindi hai fatto bene ti potrebbe riorganizzare un nazionale sky lo voglio farlo lo voglio farlo sì ma adesso fare il Dazon che sono tutti hanno smesso da uno o due anni tutti strallenati fortissimi mi sa che c'è un po' di tumacce tu sei uno dei pochi a aver portato questo nuovo modello di giornalismo in Italia facendo il giornalista per due mettenti differenti quindi Dazon e Amazon Prime è un trend tra virgolette molto sviluppato all'estero in Italia invece poco secondo te da qui a qualche anno potrà svilupparsi anche da noi lo spero lo spero enormemente ad esempio in Inghilterra funziona che Prime Video ha tre giornate di campionato della Premier League e ovviamente non è che possa assumere una squadra di giornalisti soltanto per lavorare tre weekend durante l'anno sono tutti giornalisti che magari lavorano per Sky UK e poi il fine settimana invece o per chissà quale altra emittente vanno a lavorare per Prime Video ma la possibilità di diversificare di ma per quel discorso poi alla fine siamo partiti da quello cioè rimanere sempre vivi sentire sempre quel brivido quella grande motivazione siccome è una forma di mercato professionale per la nostra categoria di questo tipo aiuta favorisce facilita rispetto a sedersi su una poltrona e non lasciarla per 30 anni quindi io spero che il mercato vada in quella direzione ok tu pensavi di essere venuto qui solo a rispondere a qualche domanda no ma stanno tagliando l'erba perché adesso andiamo a giocare è vero stanno tagliando l'erba noi siamo la cantera noi siamo nati quei quiz quindi oggi ti tocca sfidare uno di questi baldigiovani sceglilo te senza sapere quale sia l'argomento Formula 1 moto che moto imitazioni no è caso vuoi pure gli argomenti ma tu sei troppo bravo devi dire un bimbone goccia di limone goccia d'arancia viene il mar di pancia a beve volte non ce n'è conto fino a tre uno due tre sei contento andiamo già perso il momento qui ok mi è piaciuto chi ha giocato con tutti e tre questa è la categoria devo già ti ho fatto proprio bene allora i tre nomi sono dovete dirmi il giocatore che ha giocato con tutti i tre giocatori che andrò a dirvi De Bruyne Hazard e Mandzukic io così Quadrado no ah Quadrado manca De Bruyne si però scusa ho fatto un'ora straordinaria di Masterclass adesso che arriva a lui mette in difficoltà che non risponde neanche le domande è difficile è difficile no vi ho dato un suggerimento ha giocato in Milan Totena eh quella prima giocato Giru no io sì non ha solo giocato in Milan Totena arbitrato allenato Stefano Pioli non ha solo giocato è stato protagonista indiscusso di Milan Totena ben diaz è molto facile molto facile ci sono le classiche cose che ti fanno che se sei a casa l'induini subito se sei la tensione diretta un po' ti fa sbagliare un mangio che c'è al Milan vabbè dai già c'era quindi 1-0 chi era il capitolo dell'Ambrosiana Inter vabbè secondo qualche è 1-0 ma si arrivava a 1 giusto? si è finito allora altra sequenza Reina Giru e Saka Reina Giru e Saka ma Reina quale? Pepe Reina o Reina Pepe sono la vetrina poteva fare una domanda in genere vabbè io poi sarei il gioco successivo allora guardate che bella questa maglia chi è che ci ha dato un po' di dolore ultimamente con questa maglia in macedone con questa maglia con questa maglia Giorgino oddio perché Giorgino? perché ha sbagliato il rigore non puoi far favoriti eh però dico schiaccia e chi la sa ah Giorgino? bravo 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 non mi sembra io non ho convinta 2-0 per mantenere un po' vincitutto speriamo di no terza in cento per ospite d'accordo ultimo questo lo indovino Neuer Ronaldinho posso posso veramente giocare il jolly può entrare io lo farò entrare è richiesto l'uso del pubblico per l'ultima sequenza grazie io do il sembro ah beh spari hai due responsabilità proprio con questo sembra sei quelli delle televisioni tedesche? sono i microfoni così ah come di nuovo ma è sempre come di nuovo manca una giacca viola Neuer tra l'altro scusami eh sai già no no ha proprio le televisioni tedesche perché ho raccontato tutta la storia di come iniziato l'incontro visto tutto quanto tutti si chiamavano risponde cose così e facevo che palle e praticamente però lui mi chiama perché quando nasce diretta goal lui lancia questo programma che si era più gol mondiali calcio internazionale serviva uno che traducesse i quotidiani dal tedesco italiano e in quell'incontro in questo pub della periferia di Milano io avevo mi lanciato una conoscenza di stand del tedesco ho un fratello di me e quindi io ho iniziato e lui mi dava la billi guarda c'era questo pezzo su Bayer Monaco traducilo io quindi riuscivo magari a isolare quelle due o tre parole in un pezzo e poi traducevo lui per anni però poi gli ho fatto fare un servizio ho fatto il primo servizio che ho fatto a Sky era il servizio di uno che veramente aveva un passo diverso e dopo il servizio abbiamo preso il giorno dopo Cristof Down Cristof Down vai Neuer Neuer Ronaldinho De Litt allora De Litt al Bayer Monaco di adesso come Neuer Neuer Bayer di Monaco Neuer ha giocato solo al Bayer di Monaco Schalke il Gioia 4 Schalke si Ronaldinho Milan c'è uno che ha giocato con tutte e tre con tipo Comand magari Ronaldinho ha giocato con Comand De Litt ha giocato con Comand e noi ha con Comand bravo no 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 De Litt non ha giocato con Comand no non sto scherzando non è vero attenzione attenzione arbitrile come De Litt non ha giocato con Comand no no si ha giocato tre partite no 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 si è pronotato per dire che era no eh no sono il Digno quindi Barcellona aspetta magari la Juvento non c'era io non c'era io non c'era noi Schalke attenzione Raul non c'entra niente perché Ronaldinho Barcellona Adesso dove hai giocato con Dani Alves chi sono gli altri due De Litt ha giocato con Dani Alves Dani Alves De Litt Ronaldinho non ha il terzo chi è e io voglio vedere se tu sei attento e sei attento Neuer Neuer no dobbiamo andare tipo lo Schalke 0-4 dobbiamo andare allo Schalke tipo Uvides andiamo allo Schalke a Raul potremmo giocare con Raul io dico Untelar aspetta 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 ti ricordi Cartania Milan con due gol di Untelar che fosse Untelar vai 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 Untelar uno degli insegnamenti di Fabio 7-8 anni fa mi ha detto se mai ti dovesse capitare di partecipare a un quiz con dei ragazzi anche se sai la risposta e nello so che adesso non la dire lasciali vincere questa è la molla che li convince è quello che ho fatto anch'io nell'ultima volta che ho fatto il quiz era così perfetto perché questo vi darà forza convinzione fiducia perché fai così non capisco perché fai così non mi sono messo ancora di profilo non capisco a me subito era venuto anche a me immediatamente però ho intuito che era Schalke ma poi parlavano ai giocatori no? questa valeva tutto sì quindi hai perso complimenti abbiamo perso tutti e due tanto io perdo tutte quindi niente per come vai va bene grazie a tutti ragazzi abbiamo vinto un applauso alla cantera facendo la vostra in qualche modo facciamo sempre io ringrazio marco e ringrazio fabio per questo intervento però tu non hai ancora finito per noi infaticata la goccia di sudore grazie a voi grazie a ragazzi ovviamente ricordatevi di iscrivervi al canale di attivare la campanella mi piace un commento e noi ci vediamo nel prossimo video ciao ciao grazie a tutti grazie a tutti